L'Ollo Cartisano L'Ollo Cartisano Del resto a Bovalino si trattava del diciottesimo caso di rapimento. Passano pochi mesi prima che vengano arrestati i sequestratori, ma il fotografo non tornerà mai a casa. Iniziano gli appelli della famiglia e in particolare della figlia Deborah. Nel 2003 i familiari ricevono una lettera anonima in cui si racconta che il fotografo morì per un errore e viene indicato il luogo di sepoltura. La famiglia risponde al pentito con una lettera aperta concedendogli il proprio personale perdono, ma chiedendogli di consegnersi alla giustizia cosa mai avvenuta. Tiziana Bagnato per la CNews24